Ciao a tutti, sono qui per presentarvi un progetto di legge regionale, il progetto di legge 213 che riguarda la polizia locale in Lombardia. La regione non ha molte competenze in tema di forze dell'ordine e di sicurezza, con questo progetto di legge la giunta intende riprendere una vecchia legge regionale, legge 4 del 2003, introducendo qualche piccola novità. Noi abbiamo deciso di sottomettere questo progetto di legge ancorché non firmato da nessun consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia perché vogliamo avere il parere di tutti voi rispetto ad un punto abbastanza controverso, riteniamo, che riguarda sostanzialmente la legalizzazione delle ronde che si avrebbe con questo progetto di legge, anche se in maniera così netta, in Lombardia. C'è infatti un articolo, in particolare l'articolo 28, che potete leggere dal testo, che riguarda con alcuni commi la possibilità che si possono costituire associazioni di cittadini che riguardano come attività la sicurezza urbana e che possono collaborare con la polizia locale tramite convenzioni con i comuni, con gli enti locali, tramite probabilmente anche delle forme di finanziamento. Questo è un aspetto di questa legge, un punto, ripeto, dove noi abbiamo delle perplessità, dei dubbi e sui quali potremo anche votare contro, astenerci. Quindi su questo noi, in particolare, su questo punto, ma su tutto il progetto di legge, ancorché non firmato da noi, chiediamo dei contributi da parte vostra. Grazie.